oggi come primo focus on di quest'anno voglio parlarvi di bentornato alice la nuova opera del maestro shuzo shimi come sapete uno degli autori che amo maggiormente tra gli odierni giapponesi al costo di 7 euro in questo volumetto un po' piccolino è piccolino però come era anche per i fiori del male altra sua opera che ho adorato che trovate anche in questa nuova variant questo è il numero variant appunto il numero 1 variant dei fiori del male che trovate solamente in bundle insieme a bentornato alice al costo di 14 euro fortunatamente non c'è solamente questa variant ma una cosa interessante che trovate anche insieme a questi due volumi è questo shikishi davvero molto molto bello ovviamente non è un disegno originale fatto su questo shikishi è una stampa però è molto bello bentornato alice è un manga che parla di inclusività fondamentalmente infatti il protagonista quello che dovrebbe essere alice non è proprio così non è proprio quel che sembra vi spiego ci sono questi tre amici che sono i protagonisti principali quelli che si vedono sin dall'inizio dell'opera ecco qua e praticamente loro crescono insieme vanno a scuola insieme quello con gli occhiali è innamorato della ragazza che a sua volta invece sembra apparentemente innamorata dell'altro che è questo bella itante e belloccio a cui lei tipo si dichiara solo che lui fa una cosa strana non faccio spoiler naturalmente tutta roba che succede nei primissimi capitoli ovvero la bacia la bacia proprio dicendole capiamo se mi piaci oppure no perché lei le chiede quindi insomma ti piaccio vuoi metterti con me qualcosa del genere e lui fa questa prova fa questo tentativo in realtà il loro amico quello con gli occhiali li vede durante questa cosa che succede vi faccio vedere giusto la tavola prima per farvi vedere anche qui purtroppo come i retini siano quasi tutti bruciati guardate che brutto effetto muare che c'è qui su queste tavole purtroppo in alcune peggio in alcune leggermente meglio però è una cosa veramente schifosa da guardare perché rovina anche proprio un po l'effetto estetico delle tavole ma a parte questo ecco dicevo lui li vede e insomma c'è un gioco di sguardi tra i tre ragazzi anzi tra i due ragazzi perché lei non si accorge che lui assiste alla scena che da quel momento smette di parlare con l'amico finché l'ultimo giorno di scuola anzi il primo giorno di scuola del nuovo semestre il professore dice che il ragazzo è andato in okkaido il belloccio della situazione e quindi loro pensano che non lo vedranno più in realtà lo vedranno ma lo vedranno sotto una nuova luce quando si presenterà a loro di nuovo in classe con loro ma in queste bestie solo che è particolare perché lui non dirà di essere diventato una donna lui che dirà semplicemente che ha smesso di fare il maschio e quindi dovremmo cercare di capire insieme a lui insieme ai suoi amici i loro compagni di classe anche cosa lui voglia essere cosa voglia esprimere con questo vestirsi con la divisa tra virgolette femminile insomma è molto molto particolare ma mi ha preso sicuramente ancora è un shuzo shimi che indaga con quella che è la sessualità il desiderio sessuale il desiderio di esprimersi il desiderio di non essere emarginati di cercare se stessi anche il desiderio di emergere perché non c'è solamente lui come protagonista ma anche coloro che gli stanno vicino che in qualche modo vogliono affermarsi magari provando a conquistare la persona che piace loro quindi tanti motivi per emergere e cercare di farsi notare anche ad esempio i compagni di classe ci saranno le ragazze della classe che in qualche modo sono molto incuriosite da questo evento da da kei che praticamente ha smesso di fare il maschio e anche i maschi della classe che sono comunque molto incuriositi fortunatamente non ho visto troppo bigottismo da parte di nessuno in questo primo volume anzi loro sono appunto incuriositi e molto quasi con un atteggiamento agnostico verso questa cosa il disegno di shuzo shimi è sempre meraviglioso veramente a me piace un casino come sempre lui riesce a cambiare stile anche in realtà da fumetto a fumetto come si vede anche nella puntata di man ben il programma di naoki rasawa dove è stato ospite lui riesce a cambiare stile a volte anche nello stesso fumetto ma più che altro da manga a manga e questa è una cosa eccezionale l'opera in giappone è arrivata se non ricordo male al quinto volume è ancora in corso e in italia sarà bimestrale almeno per quanto riguarda i primi volumi perché immagino che raggiungerà presto la pubblicazione giapponese quindi insomma il primo volume è appena uscito e il secondo lo vedremo tra due mesi però poi probabilmente gli altri avranno una cadenza più distanziata fra di loro l'edizione non è il massimo scrocchiarella un pochino qui all'inizio l'incollatura non è proprio il massimo e poi la dimensione è veramente quella piccolissima che insomma si fa fatica quasi a leggerla non è una bunkoban ma quasi quindi io per un maestro come hoshimi avrei preferito altro però questo abbiamo e questo ci teniamo quindi vediamo un po' come sarà nei prossimi volumi perché è molto introduttivo il primo e c'è ancora tanto tanto da dire sono sicuro